Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990 sulla Statale 115, un martire della giustizia e indirettamente anche della fede, disse di lui Papa Giovanni Paolo II il 9 maggio del 93 in occasione della sua visita pastorale in Sicilia, quando alla Valle dei Templi lanciò l'anatema contro la mafia. La figura del giudice Rosario Livatino è un grande esempio morale per i giovani e per tutto il paese, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto, in Sicilia una cooperativa sociale, sorta sui terreni confiscati alle famiglie mafiose e grigentine, che a lui è intitolata, è stata data alle fiamme.